Capitolo 28 Quattordici anni «Obbligo verità?» chiese Taylor a Conrad. «Io non gioco», rispose lui. Taylor fece il broncio. «Che gay!» disse. «Non usare la parola gay a sproposito», replicò Zeremaia. Taylor aprì la bocca e la richiuse, poi disse «Non volevo offenderlo, Jeremy!» «Beh, allora che cosa volevi dire, Taylor?» rispose Zeremaia. Lo disse in tono sarcastico, ma un po' di cortesia era meglio di niente. Probabilmente era solo arrabbiato per tutta l'attenzione che Taylor quel giorno stava riservando a Conrad. Taylor fece un respiro profondo e si rivolse a Conrad. «Conrad, sei proprio noioso! Gioca con noi a obbligo verità!» Lui la ignorò e alzò ancora di più il volume della tv. Poi finse di zittirla con il telecomando, facendomi ridere. «D'accordo, Conrad è fuori. Stephen, obbligo verità?» Stephen alzò gli occhi al cielo. «Verità?» Lo sguardo di Taylor si illuminò. «Ok, fino a che punto ti sei spinto con Claire Cho?» Sapevo che si teneva da parte quella domanda da lungo tempo, in attesa del momento giusto per porla. Claire Cho era una ragazza che Stephen aveva frequentato per gran parte della prima superiore. Taylor sosteneva che Claire avesse le caviglie tozze, ma a me sembravano di una snellezza perfetta. Per me, Claire Cho era perfetta. Stephen arrossì. «Non rispondo. Devi farlo, stiamo giocando a obbligo verità. Non puoi restare qua ad ascoltare i segreti degli altri se non hai intenzione di rivelare i tuoi», dissi io. Anch'io mi ero chiesta cosa ci fosse stato tra lui e Claire. «Nessuno ha ancora rivelato dei segreti», protestò lui. «Lo faremo, Stephen», rispose Taylor. «Ora fatti coraggio e raccontaci tutto». «Sì, Stephen, fatti coraggio», insistette Jeremiah. Iniziamo tutti a ripetere in coro «Fatti coraggio, fatti coraggio!». Perfino Conrad abbassò il volume della tv per ascoltare la risposta. «D'accordo», disse Stephen. «Se state zitti ve lo racconto». Tacemmo tutti quanti e aspettammo. «Beh», dissi io. «Alla masturbazione», rispose finalmente lui. «Tornai a rilassarmi sul divano. Alla masturbazione. Wow, interessante. Mio fratello era arrivato alla masturbazione. Strano, disgustoso. Taylor arrossì dalla soddisfazione. Ben fatto, Stephen!» Lui scosse il capo e disse «Ora tocca a me». Si guardò attorno e io sprofondai tra i cuscini del divano. Speravo con tutta me stessa che non scegliesse me e mi costringesse a rivelare che non avevo ancora baciato un ragazzo. Conoscendo Stephen, lo avrebbe fatto. Mi stupì quando disse «Taylor, obbligo verità». Aveva deciso di stare al gioco. Lei rispose in maniera automatica. «Non puoi scegliere me perché io ho appena fatto una domanda a te. Devi scegliere qualcun altro». Era vero. Erano le regole. «Hai paura, Tai-Tai. Perché non ti fai coraggio?» Taylor esitò. «Va bene. Verità». Stephen sorrise malignamente. «Chi baceresti in questa stanza?» Taylor ci riflettè per qualche secondo e poi mostrò un'espressione compiaciuta. Era la stessa espressione che aveva in volto quando tinse i capelli di blu alla sorella quando avevamo otto anni. Attesi di avere l'attenzione di tutti e poi disse, in tono trionfante, «Belli!» Per un attimo restammo ammutoliti. Poi ridemmo tutti, Conrad più forte degli altri. Io le tirai un cuscino, con violenza. «Non è giusto! Non hai risposto seriamente!» protestò Jeremiah, rimproverandola con il dito alzato. «Invece sì», rispose lei soddisfatta. «Sceglierei Belli. Osserva meglio la sorellina preferita di tutti, Jeremy. Si sta eccitando proprio di fronte ai vostri occhi!» Nascosi il viso dietro a un cuscino. Sapevo di essere rossa perfino più di Steven. Soprattutto perché non era la verità. Non mi stavo eccitando e lo sapevano tutti. «Taylor, taci, per cortesia!» «Sì, taci, per cortesia, tai tai!» ripete Steven. Anche lui era paonazzo. «Se sei così seria, allora baciala!» propose Conrad, gli occhi ancora fissi sulla tv. «Ehi!» dissi io lanciandogli un'occhiataccia. «Io sono una persona! Non puoi baciarmi senza il mio permesso!» Lui mi guardò e rispose «Non sono io a volerti baciare!» Accalorata conclusi «A ogni modo permesso negato, a tutti e due! Volevo fargli la linguaccia, senza però venire accusata di essere una mocciosa!» Taylor intervenne senza indugio. «Ho scelto la verità, non l'obbligo! Quindi non ci baceremo!» «Non ci baceremo perché io non voglio!» sottolinea io. Mi sentì avvampare. In parte perché ero arrabbiata, in parte perché ero lusingata. Ora chiudiamo la questione. Tocca a te fare una domanda. «Bene! Geremia obbligo o verità?» «Obbligo!» rispose lui, poggiato pigramente contro il divano. «D'accordo! Bacia qualcuno presente in questa stanza! Subito!» Taylor lo guardò con fiducia e attese. «Rimanemmo tutti quanti con il fiato sospeso mentre aspettavamo che Geremia dicesse qualcosa. Lo avrebbe fatto davvero? Lui non era tipo da rifiutare un obbligo. Io, per esempio, ero curiosa di vedere se avrebbe scelto di baciare Taylor alla francese o con un bacetto frettoloso. Mi domandavo anche se quello sarebbe stato il loro primo bacio o se invece si fossero già baciati durante quella settimana, per esempio alla sala giochi, mentre io ero distratta. Ero quasi sicura che ci fosse già stata una prima volta.» Geremia si drizzò a sedere. «Facile!» disse sfregandosi le mani con un sorriso. Taylor ricambiò il sorriso e inclinò la testa da una parte, così che i capelli le ricaddero un po' sugli occhi. Poi Geremia si sporse verso di me e disse «Pronta?» e prima che io potessi rispondere, mi baciò sulle labbra. Aveva la bocca leggermente aperta, ma non si trattò di un bacio alla francese. Provai a respingerlo, ma lui continuò a baciarmi per qualche altro secondo. Lo rispinsi di nuovo e lui tornò a sedersi sul divano, con il massimo della naturalezza. Tutti gli altri erano rimasti a bocca aperta, tranne Conrad, che non pareva affatto sorpreso. D'altronde, lui non pareva mai sorpreso. Io, al contrario, facevo fatica a respirare. Avevo appena ricevuto il mio primo bacio, di fronte alla gente, di fronte a mio fratello. Non riuscivo a credere che Geremia mi avesse rubato il primo bacio in quel modo. Io stavo attendendo perché volevo che fosse speciale, e invece era successo durante il gioco Obbligo Verità. Cosa c'era di meno speciale di quello? E poi, come se non bastasse, lo aveva fatto solo per far ingelosire Taylor, non perché gli piacessi. Aveva funzionato. Taylor aveva gli occhi socchiusi e fissava Geremia come se lui le avesse lanciato una sorta di sfida, e in un certo senso era proprio così. Disgustoso, esclamò Steven. Questo gioco è disgustoso, io mi tiro fuori. Poi ci guardò tutti quanti con aria schifata e se ne andò. Mi alzai anch'io e altrettanto fece Conrad. Ciao, dissi, e in quanto a te Geremia, me la pagherai. Lui mi fece l'occhiolino e rispose, un massaggio alla schiena e saremo pari. E io gli tirai un cuscino dritto in testa e sbattei la porta alle mie spalle. Il fatto che fingesse di flirtare con me era la cosa peggiore. Mi aveva trattato in una maniera così prepotente, così umiliante. Impiegai qualche istante per accorgermi che Taylor non mi stava seguendo. Era dentro a ridere delle sciocche battute di Geremia. Nell'ingresso, Conrad mi lanciò uno dei suoi tipici sguardi d'intesa. In realtà ti è piaciuto? Lo fulminai con lo sguardo. E tu come lo sai? Sei troppo ossessionato da te stesso per notare chi ti sta attorno. Lui se ne andò e mi rispose, girando solo la testa. Oh, io noto tutto, belli. Anche le persone patetiche come te. Fottiti, gridai, perché fu l'unica cosa che mi venne in mente. Mentre chiudeva la porta di camera sua, lo sentì ridacchiare. Tornai nella mia stanza e mi infilai sotto alle coperte. Chiusi gli occhi e presi a ripetere mentalmente ciò che era successo. Le labbra di Geremia avevano toccato le mie. Le mie labbra non mi appartenevano più. Erano state toccate. Da Geremia. Finalmente ero stata baciata. E a farlo era stato il mio amico Geremia. Il mio amico Geremia che mi aveva ignorata per tutta la settimana. Avrei voluto parlarne con Taylor. Avrei voluto discutere con lei del mio primo bacio. Ma non potevo farlo perché in quel preciso momento lei era al piano di sotto a baciare lo stesso ragazzo che aveva baciato me. Ne ero certa. Quando un'ora dopo venne su, finsi di dormire. Belli! Sussurrò da lontano. Io non risposi, ma mi mossi un poco per fare scena. So che sei ancora sveglia, Belli! Proseguì lei. E ti perdono. Avrei voluto tirarmi a sedere e rispondere. Mi perdoni? Beh, io no, perché sei venuta qua a rovinarmi l'estate. Ma non dissi niente. Continuai a fingere di dormire. La mattina seguente mi svegliai presto, poco dopo le sette, e Taylor non c'era già più. Sapevo dov'era. Era andata a guardare l'alba con Geremia. Avevamo programmato di andare a guardare l'alba prima che lei ripartisse, ma c'eravamo sempre svegliate tardi. Quella era la sua penultima mattina e aveva scelto Geremia. Chiaro? Mi misi il costume e mi diressi in piscina. Al mattino era sempre un po' fresco fuori. L'aria era leggermente pungente, ma non mi importava. Nuotare al mattino mi dava l'impressione di nuotare nell'oceano. In teoria, nuotare nell'oceano sembra una figata, ma l'acqua salata mi bruciava talmente gli occhi che era impossibile farlo tutti i giorni. Nonostante usassero la piscina tutti quanti, al mattino e alla sera era tutta per me, se si escludeva Susanna. Quando aprì il cancelletto della piscina, vidi mia madre seduta su una sedia a sdraio a leggere un libro. Solo che non lo stava leggendo veramente, lo teneva in mano e fissava il vuoto. «Ciao mamma», dissi più per liberarla dall'incantesimo che per altro. Lei sollevò lo sguardo, sorpresa. «Buongiorno», rispose schiarendosi la gola. «Dormito bene?» Mi strinsi nelle spalle e lasciai il telo sulla sedia accanto alla sua. «Penso di sì», dissi. Mia madre si schermò gli occhi con la mano e mi guardò. «Tu e Taylor vi state divertendo?» «Un sacco», risposi io. «Da morire?» «Taylor dov'è?» «E chi lo sa?» dissi. «Chi se ne importa?» «Avete bisticciato?» mi chiese mia madre con aria distratta. «No, sto solo iniziando a pensare che avrei fatto meglio a non portarla con me tutto qua. Le migliori amiche sono importanti, sono quanto di più simile a una sorella tu possa avere», mi disse. «Non rovinare il rapporto». In tono irritato risposi. «Io non ho rovinato proprio nulla. Perché devi sempre dare la colpa a me di tutto?» «Io non ti sto incolpando. Perché devi sempre metterti al centro dell'attenzione, cara?» Mia madre mi sorrise con la sua calma esasperante. Io alzai gli occhi al cielo e saltai all'indietro in piscina. L'acqua era gelata. Quando risalì in superficie gridai «Non è vero che mi metto sempre al centro dell'attenzione!» Poi iniziai a fare le vasche e ogni volta che pensavo a Taylor e Jeremiah mi infuriavo di più e nuotavo più veloce. Quando finì le spalle mi bruciavano. Mia madre se n'era andata, ma giusto in quel momento stavano arrivando Taylor, Jeremiah e Steven. «Belli, ti verranno le spalle da nuotatrice!» mi mise in guardia Taylor immergendo un piede nell'acqua. La ignorai. Che ne sapeva Taylor di sport? Era convinta che camminare per il centro commerciale con i tacchi alti fosse sport. «Dove eravate?» chiesi galleggiando sulla schiena. «In giro», rispose vagamente Jeremiah. «Giuda», pensai. «Una massa di traditori!» «Conrad dov'è?» «Che ne so, lui è troppo figo per venire in giro con noi», disse Jeremiah accasciandosi su un lettino. «È andato a correre», aggiunse Steven un po' sulla difensiva. «Deve rimettersi in forma per la stagione. La prossima settimana torna a casa per la preparazione, ricordi?» Lo ricordavo. Quell'anno Conrad dovette partire prima per le selezioni. Non mi era mai parso un appassionato di football, eppure eccolo là a partecipare alle selezioni per entrare in squadra. Pensai che ci fosse di mezzo il signor Fisher. Un interesse del genere era più da lui e da Jeremiah, anche se non aveva mai preso sul serio la cosa. Jeremiah non prendeva mai niente sul serio. «Anch'io probabilmente entrerò nella squadra di football l'anno prossimo», dichiarò Jeremiah con aria indifferente. Lancia un'occhiata furtiva a Taylor per vedere se era rimasta colpita. No, non lo stava neppure guardando. Jeremiah afflosciò lievemente le spalle e io senza volerlo provai pena per lui. Dissi «Geremiah, mi sfidi?» Lui si strinse nelle spalle e si alzò togliendosi la maglietta. Poi raggiunse il lato più profondo e si tuffò. «Vuoi un po' di vantaggio?» mi chiese quando riemerse. «No, penso di poterti battere anche senza», risposi nuotando verso di lui. «Vedremo!» Gareggiammo su tutta la lunghezza della piscina, in stile libero, e lui mi batte la prima e la seconda volta. Io però lo sfinì battendolo al terzo e quarto turno. Taylor fece il tifo per me facendo salire ancora di più la mia irritazione. La mattina seguente Taylor era di nuovo scomparsa. Stavolta però ero intenzionata a raggiungerli. Non erano mica i padroni della spiaggia. Io avevo diritto quanto loro a guardare l'alba. Mi svegliai, mi vestì e uscì di casa. In un primo momento non li vidi. Erano più distanti del solito e rivolti di spalle. Lui l'abbracciava mentre si stavano baciando. Non stavano neppure guardando l'alba e… non era neppure Ceremaia. Era Steven, mio fratello. Fu come in quei film con il finale a sorpresa in cui tutto diventa chiaro. D'un tratto la mia vita era diventata i soliti sospetti. E Taylor, Taylor era Kaiser Sosa. Le scene mi scorrevano nella mente. I battibecchi tra loro due, il fatto che Steven fosse venuto sul lungomare quella sera, i commenti di Taylor sulle caviglie di Claire Cho, tutti i pomeriggi che la mia amica aveva trascorso a casa mia. Non mi udirono arrivare. Poi però, dissi a voce alta, wow, prima Conrad, poi Geremaia e ora mio fratello. Taylor si voltò, sorpresa, e parve sorpreso anche Steven. Belli, fece lei. Taci. Poi guardai mio fratello, che si mostrò a disagio. Sei un'ipocrita, non ti piace neppure. Mi hai detto che secondo te si è bruciata tutte le cellule cerebrali con la lozione del dottor Schultz. Mio fratello si schiarì la gola. Non l'ho mai detto, rispose, rivolgendo alternatamente lo sguardo a entrambe. Taylor aveva gli occhi gonfi e si asciugava il sinistro con la manica della felpa. La felpa di Steven. Io ero troppo arrabbiata per piangere. Lo racconterò a Geremaia. Belli, accidenti, rilassati. Sei troppo grande per fare le bizze, replicò Steven, scuotendo il capo con fare fraterno. Le parole mi uscirono con tono accalorato, rapido e deciso. Va il diavolo! Non mi ero mai rivolta a lui in quel modo. Forse non mi ero mai rivolta a nessuno in quel modo. Steven trasalì. Fu allora che feci per andarmene, e Taylor mi venne dietro. Dovette correre per raggiungermi perché camminavo in fretta. Immagino sia la rabbia a darti velocità. Belli, mi dispiace! Te lo avrei raccontato, ma le cose sono accadute così in fretta! Smisi di camminare e mi voltai di scatto. Quando? Quando è successo? Perché da quel che avevo visto le cose stavano accadendo in fretta con Jeremy, non con mio fratello. Lei si strinse nelle spalle con aria impotente e ciò non fece che irritarmi di più. Povera indifesa piccola Taylor! Ho sempre avuto una cotta per Steven, tu lo sai, Belli. Per la verità non lo sapevo, grazie di avermelo detto. Quando mi eri cambiata è stato... cioè mi sembrava impossibile, non credevo. È proprio questo il fatto. Lui non prova niente per te, ti sta solo usando perché sei qua, a disposizione! Dissi. Sapevo che era crudele, ma sapevo anche che era la verità. Poi entrai in casa, lasciandola là fuori. Lei mi seguì e mi afferrò per un braccio, ma io mi liberai dalla stretta. Ti prego non essere arrabbiata, Belli! Voglio che tra noi le cose rimangano per sempre uguali! Disse Taylor, gli occhi marroni colmi di lacrime. Ciò che intendeva dire era, voglio che tu rimanga per sempre uguale, mentre io vedrò crescermi il seno, lascerò violino e bacerò tuo fratello. Le cose non possono restare uguali per sempre, risposi. Lo dissi per ferirla e infatti fu così. Non essere arrabbiata con me, va bene, mi implorò. Taylor non sopportava che le persone fossero arrabbiate con lei. Non sono arrabbiata con te, risposi. Solo che non sono più sicura di conoscerti veramente. Non dire così, Belli, è la verità. Mi dispiace, ok? Distorsi per un attimo lo sguardo. Mi avevi promesso di comportarti bene con lui. Con chi? Con Steven? Taylor parve sinceramente confusa. No, con Jeremia! Mi avevi assicurato che ti saresti comportata bene. Lei agitò una mano in aria. A lui non frega niente. E invece sì, solo che tu non lo conosci. Come lo conosco io, avrei voluto aggiungere. Non credevo che ti saresti comportata in maniera così, così... Cercai la parola giusta per ferirla quanto lei aveva ferito me. Svergognata! Io non sono una svergognata! Replicò lei. Dunque era quello il mio potere su di lei. La mia supposta innocenza contro la sua supposta svergognatezza. In realtà, mentivo. Avrei barattato la mia posizione con la sua in qualsiasi istante. Più tardi, Jeremia mi chiese se avevo voglia di giocare a carte. Non ci avevamo mai giocato in tutta l'estate. Era una nostra tradizione. Gli ero grata di avermelo proposto. Anche se era un premio di consolazione. Mi dia delle carte e cominciamo a giocare. Ma agivamo tutti e due in maniera meccanica. Avevamo altre cose per la testa. Pensai che tra noi ci fosse il tacito accordo di non parlare di lei. Che forse Jeremia non sapesse neppure cosa era successo. Ma poi mi disse... Sarebbe stato meglio se tu non l'avessi mai fatta venire qua. Lo penso anch'io. Si sta meglio tra noi. Azzunse mescolando le carte. Sì, concordai io. Dopo che Taylor se ne fu andata, passata quell'estate, il nostro rapporto sembrava uguale. Ma non era così. Continuamo a essere amiche, ma non come prima, non come un tempo. Comunque, lei mi conosceva da tutta la vita. È difficile cancellare il passato. Sarebbe stato come cancellare una parte di se stessi. Stephen tornò a ignorare Taylor per concentrarsi su Klerchow. Noi facemmo finta che non fosse successo nulla. Ma non era così.